Buongiorno a tutti amici, buongiorno un cavolo! Innanzitutto tanti auguri a tutti gli innamorati. Oggi 14 febbraio, San Valentino, per cui auguri agli innamorati. Detto ciò, il giorno dopo, so ancora incazzato, sto talmente avvelenato, ma talmente avvelenato che questi qua mi hanno fatto prendere sonno che erano le tre e mezza, le quattro. Cioè, ma avete capito questi qua che stanno combinando? Non mi hanno fatto manco dormire, mi hanno fatto dormire male, 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 male. E quindi in attesa della Champions di stasera commenteremo, commenterò nel post partita Milan-Tottenham. A proposito, sono contento che si sono rifatti vivi Milanini, perché dopo un mese, oltre un mese di latitanza, io stavo col pensiero, sul mio canale non si vedevano più Milanini, è bastato un pareggino per fargli mettere di nuovo la testolina fuori. Va, in bocca al lupo per stasera, va, in bocca al lupo per stasera. Detto ciò, veniamo a noi. Allora, dopo il pareggio di ieri, chiaramente, io stamattina ho seguito l'intervista di Mr. Inzaghi, perché poi ieri sera non avevo proprio la testa di ascoltare, ero troppo nervoso, quindi ho spento tutto e ho cercato di prendere sonno, sonno che ho preso alle tre e mezza, quattro. E stamattina, ascoltando le sue parole, io, veramente, questo allenatore ha l'abilità di farmi incazzare più ai microfoni che per quello che fa o non fa dalla panchina. Perché durante l'intervista, il nostro caro Simone Inzaghi, detto Mr. Spiazza e detto Mr. Cagon, afferma che ad un certo punto, nel secondo tempo, aveva pensato di inserire Dzeko per mettere la terza punta, per cercare di vincere la partita, però ha visto che la squadra si stava disunendo, ha visto che la Sampodoria cominciava ad essere pericolosa nelle ripartenze e quindi ha fatto il cambio ruolo per ruolo togliendo Lukaku e inserendo Dzeko. Ma razza di Cagon, razza di Cagasotto, tu hai un solo attaccante in panchina che si chiama Dzeko e la ragionevolezza vuole che, se stai vincendo la partita, metti Dzeko e togli Lukaku, fai un cambio ruolo per ruolo per mantenere gli equilibri. Ma se la partita la stai pareggiando e devi vincere, devi mettere l'attaccante per un centrocampista o per un difensore, devi cambiare modulo, passa al 4-3-3, al 3-4-3, devi cambiare modulo. Se hai un solo attaccante in panchina, lo metti, metti la terza punta per cercare di vincere la partita. E invece no, dalle tue parole si intuisce, si capisce che hai avuto paura di perdere, hai fatto cambio ruolo per ruolo, Lukaku, Dzeko, e che cambiava se l'avessi persa? Hai pareggiato? Cosa cambia il punto? Quella è una partita da vincere e se hai paura di perdere con la Sampdoria, ultima in classifica già con un piede in Serie B, immagino tu cosa possa avere contro il Porto. Perché tra una settimana ci aspetta il Porto in Champions League e se con la Sampdoria hai paura, col Porto non so tu cosa possa avere, cioè ti viene l'incubo, ti viene l'incubo all'ora di giocare con il Porto. Ecco, queste sono le cose contro cui io mi batterò, perché non è possibile che il mio allenatore contro la Sampdoria stiamo pareggiando e non fa niente per vincere la partita. Poi è chiaro che i giocatori hanno le loro colpe perché non è possibile che tiri 25 volte e non fai un gol. Questo è chiaro che c'è la colpa dei giocatori, io non sto dicendo che è soltanto colpa dell'allenatore, ma se stai pareggiando e l'allenatore non modifica nulla dal punto di vista tattico, è palese che abbia anche le sue colpe. E quando mi viene a dire che la squadra si stava disunendo e quindi ha pensato di fare Geko per Lukaku, a quel punto mi conferma, mi conferma che è un cagasotto. Io nel video post partita ho detto senza palle i giocatori, senza palle l'allenatore. Allora ho avuto ragione, ho avuto ragione, me l'ha confermato attraverso le sue parole. Poi di che cosa altro vogliamo parlare? Il mister ha parlato anche della lite Lukaku Barella, ha detto sono cose che non vuole vedere, sono cose che non gli piacciono, chiaramente sono cose brutte da vedere, ma chi ha giocato a calcio sa benissimo che sono delle cose che possono capitare, che iniziano lì e finiscono lì. L'importante è che sono cose che si chiariscono al momento ed è lì che devono finire. Sono cose che purtroppo succedono, successe anche per Osvaldo Icardi, soltanto che poi lì si ruppero, Osvaldo fu mandato via, però l'importante è che sono cose di quel momento, sono cose di quel momento che anche io non vorrei mai vedere, sono cose che dovrebbero succedere magari negli spogliatoi, dove nessuno vede, dove la cosa resta lì, però la foga e l'agonismo del campo talvolta ti può portare a questo tipo di comportamenti. Per il resto c'è grande grande amarezza, grande delusione, ma non per il meno 15 del Napoli, tanto il Napoli sta facendo un campionato a parte, quindi non bisogna proprio considerarlo. La verità è che l'Inter ieri ha perso due punti fondamentali per allungare sulle inseguitrici per la zona Champions. Ci mettevamo a 46 punti e lasciavamo a 41 Milan, Roma e Atalanta, con la Lazio a 39. Cioè veramente abbiamo perso un match point importante e se penso che abbiamo perso due punti anche a Monza al novantatresimo, perdiamo in casa con l'Empoli perché quell'altro si fa buttare fuori, se facciamo il conto di questi punti, due col Monza, due con la Samp e tre con l'Empoli, due, due, quattro e tre su sette punti hitate, con l'Empoli voglio mettere il pareggio, mettiamo il pareggio, Comunque sono cinque punti buttati che guarda come ti avrebbero fatto comodo in classifica, ma ripeto, non per il Napoli che sta strameritando lo scudetto e che sta facendo un campionato a parte, ma per la zona Champions, perché è quella la mia preoccupazione. Anche perché acquisendo un vantaggio importante sulle inseguitrici magari potresti pensare in campionato di fare un pochino, un pochino di turnover per poi concentrarti sulle coppe, perché ricordiamo che noi siamo gli unici ad essere in gara in tutte le coppe. Una l'abbiamo già vinta, un'altra siamo in semifinale dove ad aprile affronteremo la Juventus, quindi c'è tempo, però c'è la Champions. Adesso c'è la Champions ed è una competizione dove non voglio sentire scuse. Abbiamo il Porto che è un'ottima squadra, è una buonissima squadra che ci metterà in difficoltà, però è il Porto. C'è una squadra con cui puoi passare il turno, ok? Un conto, se avessi beccato Manchester City, Real Madrid, lì magari puoi anche giocartela, ma metti in conto che viene eliminato. Qui il turno lo dobbiamo passare, lo dobbiamo passare. Cioè io ho un quarto di finale, non lo vedo dal 2010, Waiuso, 13 anni e non esiste. Dobbiamo andare assolutamente nella top 8 d'Europa. Ci conto tantissimo, il 22 febbraio sarò a San Siro per Interporto, per cui mi aspetto veramente una grande, grandissima partita. Tra l'altro è la prima volta quest'anno che salgo a San Siro. Non è mai passato così tanto tempo, però vuoi per tanti impegni eccetera eccetera, finora non sono riuscito mai a salire, però da qui alla fine del campionato, alla fine della stagione, conto di salire insomma 2, 3, 4 volte anche. Dipende quanto andiamo avanti nelle coppe, che chiaramente se andiamo avanti in Champions, magari mi andrò a vedere anche il quarto di finale. Il campionato onestamente ormai è segnato lo scudetto, quindi insomma vediamo un po' come va la situazione. Vabbè ragazzi, io con questo è tutto, mi dovevo sfocare anche stamattina, perché quando vedo e sento le cose storte, io non riesco a tenermele e quindi devo, come si dice in gergo, devo sputare, devo liberarmi, devo purificare la mia anima dalle cose sporche, dalle cose sporche che non voglio sentire. Vabbè ragazzi miei, un abbraccio, un saluto, cari Milanini, non vatteggiate voi, voi siete quelli che dite, voi sapete soltanto esultare delle nostre sconfitte, soltanto delle nostre disgrazie potete esultare. No compà, io esulto anche per le mie vittorie, tanto è vero che in Supercoppa te le ho suonate, te le ho suonate di santa ragione, in Supercoppa e anche in campionato, quindi stai zitto e pensa a te stasera, perché poi quando io esulterò anche delle tue disgrazie, ti devi stare zitto perché tu sei il primo a farlo, per un pareggino, per un pareggino sei uscito fuori e messo la capuzella fuori, quindi se noi esultiamo per le tue disgrazie, tu non fai diversamente, tu non sei un esempio come tifoso e come niente. Ciao!